La maltrattava dinnanzi ai figli umiliandola continuamente e lei ha deciso di lasciarlo per interrompere il tunnel delle persecuzioni. Invece la situazione è peggiorata e la storia di una donna gelese del marito di 34 anni che adesso è stato arrestato dai carabinieri di Gela. Dopo la separazione la situazione si è aggravata al tal punto che la vita della donna era regolata dalla paura di qualche ritorsione, minaccia e umiliazione del marito, così da modificare le abitudini quotidiane. Appurata la grave situazione, con numerosi indizi di colpevolezza a suo carico i carabinieri hanno arrestato l'uomo collocandolo ai domiciliari.